Doveva essere un giorno dedicato alla chiusura della campagna elettorale a Laterina e a Pergine Valdarno dove dopo la decisione di unione dei due comuni si dovevano tenere il prossimo 10 di giugno le elezioni amministrative. Una data che è stata invece rinviata per il decesso di uno dei tre candidati a sindaco Giovanni Lari. Lari era proprio di Laterina e i suoi concittadini lo ricordano così. È un grave lutto, è una persona da noi molto stimata, è un amministratore, ha fatto l'amministratore tanti anni e ora ha deciso anche di candidarsi come sindaco, purtroppo la cosa più grave però è la morte insomma. Lui era prima nella vecchia amministrazione, poi è uscito, era un amico. 56 anni, operaio, ex assessore alla salute e alle politiche sociali nella giunta di Cate a Donnini, era stato scelto come candidato sindaco dalla lista sinistra per Laterina Pergine Valdarno. Nonostante la malattia con la quale combatteva da mesi, Lari aveva accettato la candidatura e preso parte attivamente alla campagna elettorale. Gli altri due candidati, Simona Nere e Stefano Bellezza sono stati convocati in prefettura e la decisione è già stata presa. Elezioni rinviate a domenica 29 luglio per poter modificare le liste alla luce di quanto avvenuto. Parlando politicamente su questo affare dell'unione la pensavo uguale e tale come lui. Io ero contro come era lui, lui è stato forse quello che si è battuto più di tutti per l'unione contro. Ognuno ha la sua identità, ognuno ha la sua realtà, belle tutte e due e dovevano rimanere tali tutte e due. Questo era il punto di vista mio che coincideva con quello di Giovanni.